Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi mostro come realizzare un bigliettino d'auguri o meglio. Abbiamo quindi bisogno di un foglio di cartoncino colorato, un foglio di carta bianco, una 4 semplicissima, del wishy tape e una colla stick. Scelgo il cartoncino del colore che più mi piace, in questo caso il giallo. Lo stacco, seguendo la tratticciatura. E gli do una forma rettangolare. Dopiego a metà. Realizzo delle onde con delle semplici cordici. Realizzo ora l'interno del mio biglietto, sul quale andrò poi a scrivere la frase, il messaggio che voglio dedicare. Prendo il foglio bianco e lo dimensiono all'interno del biglietto stesso. E lo incollo con della colla stick, facendo aderire per bene il foglio bianco al cartoncino. rifinisco ora la parte bianca e quella gialla. E scontorno un po' i bordi. Ora decoro a piacere con il wishy tape. Potrei metterlo intorno a tutto il biglietto, ma mi piace che si veda ancora la parte gialla, quindi decido di metterlo soltanto sulla parte più lunga. Non mi preoccupo di inserire tutta la striscia anche all'interno, perché adesso andrò ad incollare la parte di foglio bianco che è rimasta ancora scollata. Procedo decorando il mio biglietto a mio piacere e aggiungendo tutti i wishy tape che voglio. ovviamente potrebbero anche essere di colori differenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su. Vi lascio qui accanto il video precedente e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto. Ciao a tutti e per il resto del canale un nuovo video voglio farvi vedere cosa ho acquistato da Deborah. Buon anno!